notizia amiche ed amici di rete otto sport buonasera e bentornati ad eccellenza eh on air domani sarà una giornata eh molto molto particolare in eccellenza perché si andranno ad incrociare poi vedremo come le prime quattro del campionato di eccellenza naturalmente balza agli occhi eh l'incrocio del Fadini con Giulianova che andrà a scontrarsi con la capolista Avezzano ma anche questo l'Aquila Torrese insomma eh fa capire quanto quanto è bella questa stagione quanto è bello eh questo campionato lottato fino eh alla fine si è chiusa anche la finestra eh di eh mercato quindi insomma eh davvero davvero tanto ma tanto da scoprire per quella che sarà la giornata numero ventidue vado a salutare immediatamente i miei eh ospiti eh sarà un eh parter d'eccezione quello di stasera perché eh abbiamo davvero tanti 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 eh protagonisti. Allora il mio saluto carissimo e il bentornato ad Alessandro Mucciconi presidente del eh Giulianova. Ciao Alessandro buonasera. Ciao buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie, grazie a te presidente per essere sempre eh presente. So che posso bloccarti per circa mezz'ora perché poi insomma gli impegni di lavoro e non solo eh ti corrono dietro e eh ovviamente eh massimo spazio eh a te ma poi ci eh risentiremo ovviamente anche domani sera domenica dopo questo eh big match. Un bentornato una con affetto un caro saluto anche a eh Luigi eh Ridolfi direttore eh sportivo eh del Navezzano eh calcio. Ciao Luigi. Buonasera. eccolo qui eccolo qui. Luigi eh insomma eh abbiamo detto col presidente incroci particolari su tutti quello tra tra eh Giulianova ed eh Avezzano una battuta veloce per te Luigi eh come si vivono queste ultime ore prima del big match? Ah eh innanzitutto saluto il presidente caramente è una persona spettacolare ha avuto modo di di conoscerlo è una persona veramente che eh una persona non giverante sta facendo le cose per bene ma non c'era alcun dubbio eh vedendo il personale ma come si vive io dico la verità io lo sto vivendo abbastanza serenamente siamo cosci di andare ad infrontare una buona una grande squadra ma noi lo siamo altrettanto e cerchiamo di fare una grande partita. Benissimo allora dopo eh Ridolfi direttore sportivo dell'Avezzano ho pensato di invitare e lui inizialmente mi ha detto ma io cosa centro eh in questo palcoscenico però insomma è un è un mister che ha eh bloccato per ben due volte la prima in maniera pesante eh soprattutto eh che ha bloccato il Giulianova e quindi eh ho voluto fare incrociare eh sia eh il presidente Mucciconi che e Guglielmo Guglielmo Bonati che ha tolto si è preso quattro punti diciamo così dalla formazione giallorossa ciao Guglielmo e bentornato in eccellenza negra. Ciao Lorenzo grazie mille dell'invito. Beh che mi dici come si blocca? Non so se Luigi se Luigi ti ha chiamato per per spulciare qualche qualche tattica. No intanto grazie che mi è andato al massacro in trasmissione così il presidente già mi ha odiato quella partita per riodiare. Allora la dico dico che anche con l'Avezzano abbiamo fatto una buona partita lì a Avezzano e e e ci hanno fatto gol al primo tiro in porta e secondo me è stata una delle partite dove abbiamo preso anche un palo prima di che loro andassero in vantaggio abbiamo fatto una buona partita poi loro eh sono stati stradipanti eh col Giulianova sono state due partite equilibrate sia l'andata che il ritorno eh dove sicuramente il nostro assetto tattico ha tenuto conto forse più di altre squadre della forza del Giulianova e l'umiltà con la quale l'abbiamo affrontati sia l'andata che il ritorno l'umiltà ma con la personalità e la voglia di fare qualcosa ha fatto sì che abbiamo portato il risultato a casa e non nego anche in maniera molto 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 difensivista eh in tutta la partita di ritorno e in tutto il secondo tempo della partita dell'andata ma io dico sempre per merito dell'altra squadra perché o uno decide di regalare le partite eh oppure prende coscienza che esiste l'avversario e che quindi in una certa maniera deve fare il massimo per quel che la partita gli permette di fare e l'avversario gli permette di fare. Assolutamente assolutamente sì sono sono d'accordo eh con noi a farci compagnia anche eh il mio collega storico grande amico Enzo De Nominicis un abbraccio a te eh Enzo abbiamo già scambiato qualche qualche parolina su questo big match nel mezzo anche le parole di Guglielmo Bonati che ha voluto un po' eh fare il quadro di quello che è successo precedentemente ovviamente riferendosi alla sua squadra nei due incroci nei tre incroci che ci sono stati con l'Avezzano e con e con il eh Giulianova Enzo so che sarai tu di scena proprio domenica al Falini per raccontarci e per raccontare ai nostri amici telespettatori questo eh questo big match sei nervoso anche tu come sono le cose le due società e i due gruppi squadra? No assolutamente mh no perché mh te la godrai? eh scusa non ti ho capito lo dico tu te la godrai questa partita senza troppi assilli assolutamente sì no non sono nervoso perché ehm diciamo che bisogna eh godersi questi spettacoli no? Si affronteranno due squadre che stanno dando spettacolo in questo campionato chi in un modo chi in un altro per cui secondo me è una partita tutta da vedere e da godere non penso assolutamente che ehm ci sia del nervosismo che ci sia sì c'è attesa questo è innegabile però spostarla sul nervosismo no assolutamente no eh nemmeno sulla tensione una giusta tensione sì che porta che può dare una bella intensità però credo che le due squadre onoreranno assolutamente la eh la giornata la giornata di sport di questo ne sono ne sono ampiamente sicuro vi chiedo scusa ma io sono in macchina perché per lavoro mi sono dovuto fermare e saluto assolutamente tutti tutti gli ospiti eh sì allora allora Enzo abbiamo con noi il presidente Mucciconi Guglielmo Bonati del Filippo Pescara e ovviamente eh anche la sponda pezzanese con Luigi eh Ridolfi direttore sì assolutamente veramente hai hai allestito veramente un bel parterra bravo bravo Lorenzo come state? Grazie sto aspettando l'ingresso di un altro di un altro ospite d'eccezione speriamo che a livello tecnico si possa risolvere questa problematica ma credo insomma da qui a qualche minuto di 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 avere l'onore e il piacere di avere anche anche lui poi al momento in cui nel momento in cui entrerà ovviamente ve lo ve lo presenterò allora vado eh nuovamente eh a parlare di questo big match ma ovviamente anche di altro anzi facciamo una cosa andiamo a vedere quello che è successo eh domenica nel turno precedente eh la giornata numero ventuno eccolo qui il eh lo eh eh lo specchio insomma di quello che è avvenuto appunto la settimana scorsa con il del vino eh Curi Pescara che ha giocato in questo caso però sabato nell'anticipo col Pontevomano ha perso uno a zero lo zero a zero tra Albe e Giulianova la vittoria di misura della Vezzano sull'angolana Bagigalupo Lanciano uno a zero Cupello L'Aquila anche qui il eh punteggio di uno a zero lo scivolone pesante dello spoltore a Montesilvano che ha generato le sonero di eh mister del Gallo Penne Capistrello due a uno San Buceto Casalbordino eh zero a zero Torrese Villa duemila quindici eh quattro a eh due eh insomma presidente un pari che ha rallentato la vostra corsa ora sono cinque i punti di distacco eh dall'Avezzano eh ieri sera in un'altra trasmissione ho detto a prescindere da quel che sarà il risultato secondo me domani non si deciderà eh la stagione eh sei d'accordo con questo oppure pensi che eh una sconfitta da parte vostra toccando ferro possa essere eh già una chiara dimostrazione della forza della squadra avversaria? Intanto vorrei ringraziare Luigi Ridolfi per le belle parole nei miei confronti e le contraccambio veramente con affetto. Quando riguarda Muglielmo eh non mi sei assolutamente di fatto anzi come ti dicevo prima della trasmissione sei una persona simpaticissima da cui veramente è bello con cui è bello confrontarsi eh non siamo assolutamente nervosi eh nell'attesa di questa partita ma come diceva come diceva bene il il nostro amico eh De Dominicis siamo orgogliosi di questa attesa che tutta Giulianova sta eh riassaporando dopo tanti anni quindi comunque vadano le cose ecco per riaccacciarmi alla tua domanda sicuramente un risultato negativo eh darà eh strada libera o quasi all'avezano ma noi veramente te lo dico con la massima sincerità noi il nostro campionato l'abbiamo già vinto io ti posso dire semplicemente ti faccio ti do semplicemente due numeri abbiamo dato in pre vendita eh 600 biglietti a tre barre di Giulianova gli abbiamo dato oggi l'altro ieri oggi in tutte e tre bar sono esauriti i biglietti abbiamo riportato in tutti e tre il bar altri e 600 biglietti per farti semplicemente capire eh per noi questa è una vittoria quindi presidente possiamo già dare numericamente eh ovviamente in questo caso solo dalla parte eh della tifoseria Giuliese i numeri ufficiali o ufficiosi a poche ore dal match guarda eh ufficiosi eh sono che al momento abbiamo venduto più di 700 o sarà giornata giallorossa quindi gli abbonamenti non non vanno eh fino a ieri sera appunto perché oggi sono venuti a a riprendere i taglianti erano sì c'è 600 perché abbiamo dato il 200 per ogni ballo sì un continaio sono stati venduti in sede fino a ieri quindi siamo già a 700 biglietti venduti ci saranno presidente scusami ci saranno ovviamente molte richieste da credito per gli addetti ai lavori eh per i giornalisti immagino e credo anche mi ha chiamato appunto oggi il segretario mi ha detto sì che dobbiamo fare con queste che che stanno chiamando veramente la cosa ci inorgoglisce io penso che anche da parte dell'Avezzano sia ecco una una bella una bella giornata di sport io eh faccio i complimenti all'Avezzano perché è una macchina della guerra eh dobbiamo riconoscere la loro forza eh siamo consapevoli che sarà una bellissima giornata di sport tra due squadre che secondo me daranno vita ad un bellissimo incontro è normale noi tra virgolette se guardiamo la classifica eh siamo quelli che alla fine hanno hanno più bisogno della vittoria ma credetemi non né retorica noi il nostro campionato lo abbiamo già vinto quindi scusami se ti interrompo perché eh l'ho chiamato in causa a prima eh volevo dedicare questa questa puntata del sabato sera a a alle prime della classe insomma a quelle che sono un po' l'emblema di questo eh campionato ho voluto mettere dentro anche il Delfino di Bonati non ce lo dimentichiamo il Delfino di Bonati l'anno scorso eh quando si interruppe eh la stagione era primo in classifica insieme eh insieme all'Aquila quindi ci può stare benissimo Gugliel Bobbonati e io saluto con affetto l'ho visto di persona qualche settimana fa durante la presentazione ma lo volevo stasera in trasmissione Sergio Lore allenatore dell'Aquila mit novecento ventisette ciao Sergio e benvenuto all'eccellenza on air buonasera buonasera a tutti come stai? Beh insomma benissimo dai diciamo che dopo l'ultima dichiarazione di domenica mi sono un po' preoccupato devo essere sincero però eh hai smantito un po' quella eh quella gara e soprattutto quelle sensazioni negative che hai avuto beh vabbè ma non non è il discorso del risultato perché il risultato comunque va sempre accettato eh il problema era relativo al un po' alla prestazione e all'approccio no? Eh sappiamo che ci dobbiamo lavorare su questo fattore e non si può far altro poi che farla smaltire per forza la la rabbia no? Eh perché poi altrimenti non si è più lucide hai parlato lo possiamo dire tranquillamente hai parlato di una di una torta non non assolutamente buona non troppo non troppo a buona no? Quindi questo messaggio secondo te è passato tutti sulla stessa barca non solo quando si vince ma anche quando eh tocca piegare piegare la testa che sensazioni hai avuto in questi in questa settimana nei giorni in cui vi siete allenati perché poi domenica c'era Torrese insomma non è l'ultima arrivata. Sì ma eh le sensazioni sono sensazioni comunque di concentrazione ti posso dire che eh anche la settimana precedente comunque eh avevo visto i ragazzi abbastanza concentrati. Eh la partita di domenica ha dimostrato proprio che non ci si può affidare di nessuno ma così come avevo avevo già detto eh ai microfoni in settimana e il campionato di eccellenza è un campionato assolutamente ostico e domenica ne è stata la dimostrazione ma insomma non è che ehm altre squadre possono essere prese sotto camba eh eh quindi tutte eh tutte le squadre sono attrezzate ho fatto l'esempio settimana scorsa del Villa ma eh con il massimo rispetto eh anche il Villa se la batterà fino alla fine eh quindi non sarà facile proprio eh allora Sergio guarda io credo tu possa eh vedere il nostro mosaico c'è il presidente del Giuliano Mucciconi il direttore sportivo della Pezzano Luigi Ridolfi eh Guglielmo Bonati del Delfino Curi e Pescara e il nostro collega sempre direte otto sport Enzo eh De Dominicis vado da Guglielmo perché a lui voglio chiedere è giovane ma secondo me molto navigato Guglielmo eh se la dichiarazione che ovviamente tutti abbiamo ascoltato non solo l'analisi della gara ma poi quella quella frase dirompente possa davvero eh scatenare un qualcosa di positivo un'onda anomala positiva all'interno di qualsiasi spogliatoio non solo quello quello dell'Aquila Guglielmo eh innanzitutto voglio salutare il mister perché come lui sa ho molta stima di lui e anche caratterialmente eh eh è una persona un allenatore che a cui mi sento vicino perché eh vive la 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 professione la passione in una maniera molto forte e credo che in ogni squadra che con la quale abbiamo giocato contro l'ho sempre rivista in mezzo al campo e e assolutamente sì ricambio ricambio Guglielmo grazie è ovvio che 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 allenare l'Aquila secondo me non è una cosa semplice per cui il mister merita questa questa opportunità eh perché lui ha fatto la strada giusta e ha dimostrato in ogni campo e ovvio che che non è semplice per cui lui sa quale parole usare in ogni in ogni momento e in ogni situazione e non è semplice pesarle e e farle passare alla squadra il messaggio giusto perché si tratta di giocatori che comunque hanno un altro spessore e un'altra esperienza e un altro trascorso rispetto per esempio a una squadra come la nostra e e so già a cosa si riferiva ovviamente nell'intervista perché quando vai a cupello e non ti e non ti cali nella realtà di un campo piccolo veloce ostico in cui una squadra che la domenica prima aveva perso con l'ultima in classifica si fa fatica perché il chiamato eccellenza due squadre tre squadre lottano per vincere e quindici lottano per non retrocedere per cui gli dico solo gli faccio solo un grande bocca al lupo perché perché comunque eh tutti magari fanno un po' i fenomeni dicendo ma è facile allenare l'Aquila secondo me invece la cosa più difficile del mondo Sergio se vuoi rispondere ovviamente hai complimenti a questo punto di di Bonati ma non sono solo complimenti sono anche considerazioni che ci vuole che ci vuole Lorenzo che che ripeto non è semplice perché poi a chiacchiere siamo tutti bravi e quando poi ti trovi uno spogliatoio con tanti giocatori di quello spessore non è semplice ma guarda eh Lorenzo Lorenzo innanzitutto ringrazio Guglielmo eh ci siamo visti tante volte e ecco la penso come lui viviamo più o meno ma secondo me abbiamo lo stesso approccio e lo stesso modo di di lavorare guarda io ti dico eh cerco di snaturare il meno possibile eh quello che è il mio modo d'essere il mio modus eh vivendi no? Il mio modus operandi eh non potrei farlo perché sarei non sarei me stesso eh credo che lo spogliatoio io lo viva tanto eh qua quanto eh ai Nero Stellati alla Midernina al Sulmona e e via dicendo tanto con i ragazzini quanto con gli adulti credo che la l'onestà intellettuale eh sia alla base che poi ti ti porta a a a farti accettare a far accettare il tuo pensiero va bene perché è inutile andare in giro è vero ci sono giocatori navigati ma eh i giocatori sanno e in particolar modo i miei e ripeto non lo faccio per eh per arruffianarmi nessuno perché non ho bisogno eh nel senso che eh io sono così eh ed è giusto che io operi per come penso va bene quindi devo dire che ehm credo sia difficile allenare in tutte le piazze perché ogni piazza è il suo cosciente di difficoltà qua siamo agevolati diciamo in teoria da da quello che è il il tasso tecnico dei giocatori e c'è il rovescio della medaglia come ha detto il mister ci sono giocatori navigati che potrebbero in teoria non accettare alcune situazioni però ti devo dire eh sotto questo punto di vista ho trovato una squadra eh abbastanza di persone abbastanza intelligenti quindi non c'è non è non è stato quello il problema di domenica ok il mister il mister il mister ha fatto centro ok perfetto ma questo pensiero Sergio perdonami se ti interrompo credo che la condivisione massima dopo quello che è stato detto eh debba arrivare eh soprattutto dalla società eh perché adesso insomma non voglio parlare di professionismo però il legame forte è vero che deve esserci tra mister e gruppo squadra ma certi messaggi devono essere condivisi soprattutto dalla società no no guarda per quanto riguarda la società eh credo siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Carta bianca da quello che ho capito. Ma non non si può non avere carta bianca perché altrimenti non si riesce a operare. Io quello che volevo dire è il il mister ha fatto centro ma così come eh credo la pensi eh l'amico Gigi il campionato d'eccellenza è un campionato che va preso con le molle perché perché trovi il campo dove puoi giocartela in un in un modo e un altro campo che non dove non si può prescindere dal rompersi le ginocchia che è quello di Cupello ok è inutile venire qua e prendere esclusivamente la lavagna e fare i fenomeni da baraccone c'è da calarsi in una categoria in cui trovi squadre come il Cupello ai quali al quale ai quali rinnovo ancora i miei complimenti che fanno del tutto gettano il cuore oltre l'ostacolo ti fanno fanno di tutto va bene quindi non basta solo essere bravi bisogna essere furbi smaliziati e cattivi questo è il mio pensiero non posso venire qua e dire ok andiamo di Fioretto se andiamo dal mister sarà la stessa cosa non sarà facile ok sono è un modo di giocare in questo campionato che è diverso da tutti gli altri perché la promozione ti dà un agonismo e elevatissimo senza la possibilità di di fare un grande gioco la serie di ti pone dinanzi a squadre più preparate tecnicamente e quindi magari questa è una via di mezzo è una fatti il muso ok quindi il messaggio sostanzialmente deve essere questo mi associo assolutamente al mister eh vado da Luigi eh Ridolfi eh Enzo ancora con noi ho visto uscire il presidente ma evidentemente eh tornerà tra tra pochissimo Luigi eh eh è un messaggio che condividi nel senso è questa la ricetta giusta la ricetta magica per dare uno scossone in positivo alla 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 propria squadra eh parole parole forti però evidentemente in certe situazioni sono le parole giuste ma quello che ha detto Sergio quello saluto saluto così come saluto mister Bonati che sono due grossi allenatori che io stimo tantissimo Sergio mi sento spessissimo diciamo sentire spesso è una persona che calcio lo vide come lo vive ma lo vive in modo giusto perché è un passionale ma non solo perché eh Sergio è anche molto molto preparato tecnicamente perché qui si parla sempre di Sergio Re come persona passionale persona ma è anche molto preparato tecnicamente e quello che dice non fa una piega sia lui che il mister Bonati eh dicono tutto la stanza verità nel senso che campionato di eccellenza io te lo dico come Avezzano che è più o meno quello che succede all'Aquila a noi ci aspettano tutti farà tutti vogliono fare la partita della vita se chiaramente non ti cali in questa realtà tu puoi avere Zanon oppure puoi avere pendenza ma le parti non le vinci mai perché perché scusami se ti interrompo perché avevo promesso al presidente Mucciconi di liberarlo dopo dopo mezz'ora e poi nella seconda parte entreremo nel vivo non solo di questo big match tra Giuliano e Avezzano ma l'altro big match è quello tra la terza forza e la quarta eh dove eh sarà di scena appunto l'Aquila di eh Sergio eh Lorè eh presidente abbiamo parlato con Lorè di di comportamenti di atteggiamenti di grinta di voglia eh soprattutto di calarsi in questa categoria che 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 è tosta e e dura sotto tutti i punti punti di vista un presidente come come lei avrebbe eh accettato le parole di mister Lorè forti ma per lanciare il messaggio giusto come abbiamo detto in precedenza? Certo che sì eh io guarda do il massimo della libertà al nostro ministro è come giusto che sia perché comunque è lui che deve instaurare un rapporto con i ragazzi è lui che vive lo spogliatoio più che la direggenza e più che il presidente se non si dà massima libertà di di espressione eh all'allenatore perdiamo in partenza e quindi guarda io per questo poi poi ecco sono veramente mi tengo le distanze entro solo quando serve perché altrimenti sarebbe dittatura invece noi dobbiamo dare dobbiamo dare spazio alle persone la cui crediamo quindi se un mister viene scelto è perché la società ci crede e quindi ed è giusto che si dia la massima libertà sia di parola che tecnica che tattica quindi su questo sposo pienamente quello quello che ha fatto e quello che ha ritenuto giusto fare. Sì a poi diciamocela tutta quando si fanno eh determinate dichiarazioni nello spogliatoio eh queste dichiarazioni hanno un peso quando si fanno pubblicamente il peso secondo me aumenta per fare arrivare a tutti il messaggio forse anche forse anche alla piazza diciamo eh diciamo questo no? Non basta solamente mettere dentro tesserare giocatori forti ma poi c'è bisogno anche di un altro atteggiamento. Alessandro prima di lasciarti eh com'è stata questa settimana e se siete tutti pronti o oppure avete qualche defezione non voglio ovviamente eh vantaggio all'avversario però puoi dirmi qualcosa? Guarda fortunatamente incrociando le dita ecco è andata tutta è andato tutto bene i ragazzi si sono allenati come tutte le altre settimane fortunatamente tranne appunto la barba che ha avuto un risentimento appunto muscolare però ecco è rientrato nell'ultimo allenamento con la squadra si sono allenati tutti con la massima voglia e grinta quello che comunque hanno fatto fino adesso per tutto il campionato quindi sono fiducioso ma soprattutto sono felice sono felice che Giulianova torna con la giugliesità e con eh tutta la voglia che si sente in giro a disputare una domenica di calcio eh importante ma non perché le altre partite partite non lo siano state per carità perché tutte le partite sono importanti però ecco sentire questa anche la pressione positiva no la pressione la l'ansia positiva la chiamo sì è proprio una bellissima sensazione che è una bellissima sensazione che stiamo vivendo e toccando con mano veramente giorno dopo giorno fino ecco a questa sera sperando ecco che poi domani sia una bellissima giornata di sport e una gioia per tutte e due le squadre perché comunque arrivare a giocare una partita con una cornice di pubblico importante è una gioia per tutti una gioia per lo sport ma è una gioia per l'eccellenza Alessandro eh prima di lasciarti un ultimo accenno perché mercoledì il Fadini sarà teatro di una ennesima gara importante e qui eh rientra in gioco Sergio Lore perché ci sarà la finale la finalissima tra eh il eh Sambuceto e e l'Aquila millenovecento ventisette ho visto le disposizioni della Lega anche anche qui diciamo che sarà una cornice meravigliosa con la presenza nella vostra curva nel cuore pulsante del tifo giugliese del vostro settore giovanile state facendo le cose in grande anche quando vi tocca ospitare altre squadre sto vedendo per noi è un piacere quando ci è stato chiesto se volevamo ospitare eh la finale è stata una gioia perché comunque ci è stato chiesto ecco facendoci capire che per loro era un piacere perché noi ci stavamo comportando bene stavamo facendo eh quello che è giusto fare in una società cioè pianificare eh abbellire anche lo stadio quindi stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità e quindi ecco avere la richiesta di disputare una finale sarà ancora di più una prova per capire quanto bravi stiamo diventando noi siamo umili e abbiamo tanto da imparare quindi anche queste manifestazioni serviranno per per imparare ecco ad addentrarci in esperienze importanti che sono poi ecco l'epilogo eh di quando qualcosa fa qualcuno fa qualcosa per lo sport e noi siamo orgogliosi e felici e daremo il massimo anche per l'organizzazione di questa finale questo è un bel è un bel messaggio eh presidente l'ultimissima mi confermi le disposizioni della Lega nella tribuna eh centrale saranno assiepati eh i sostenitori del San Buceto o dalla parte opposta nei distinti quelli dell'Aquila e la curva come detta come detto eh sarà riservata ai eh ai ragazzi eh che godranno sicuramente di un ottimo spettacolo mi confermi queste disposizioni? Allora la la tribuna centrale per zona ospiti quindi sono tutte le persone chiamate dal dalla Lega la tribuna est dalla tribuna est e per i tifosi del San Buceto eh la il lato di Stindi se non erro vado al lato di Stindi e per i tifosi sarà per i tifosi dell'Aquila mentre la curva sarà per tutti i ragazzi delle scuole calcio non solo di Giulianova ma di tutte le zone limitrofe quindi sono stati fatti a tutti i settori giovanini e scuole calcio penso e mi auguro che sarà un'altra bellissima giornata di sport a Giulianova eh dopo quella che si vivrà domani e ne sono sicuramente convinto che domani sarà una bellissima bellissima giornata di sport. E l'ultima te la faccio non so se sei un esperto di medio ma come sarà il tempo domani? Guarda il tempo il tempo ecco almeno per quello che siamo che siamo riusciti a vedere dalle previsioni sul sul medio sembrerebbe una giornata buona. Quasi primaverile diciamo così. Quasi primaverile quindi il manto sta sta ritornando fortunatamente ecco sta sta migliorando settimana dopo settimana quindi dai c'è tutto quello che serve per eh poter avere un giusto spettacolo una giusta fornice per una bellissima e ripeto non voglio essere ripetitivo una bellissima giornata di sport. Grazie grazie Alessandro. Sì? Scusami posso intervenire un secondo visto che il presidente va via lo volevo salutare caramente ci vediamo domenica presidente. Ciao Luigi grazie vi aspettiamo a braccia aperte anche perché siamo stati accolti veramente benissimo quando siamo stati i vostri ospiti e cercheremo di contraccambiare la vostra gentilezza con la nostra. Un abbraccio a tutti gli ospiti e un grande ringraziamento a te che mi hai invitato e mi dai modo di esprimere quello che è vivo e quello che è per me il calcio in questo momento. Grazie a tutti e buon faccia e non solo e questo eh insomma ti va ti va dato atto di quello che stai facendo per per eh Giulianova calcio e non solo e non solo perché Alessandro Mucciconi è impegnato anche anche in altro quando quando si tratta di dare una mano al al suo eh territorio. Grazie presidente in bocca al lupo per domenica. Grazie. 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 Ciao. Allora un salutone ancora ad ehm Alessandro Mucciconi presidente del eh Giulianova ora voglio entrare nel vivo perché eh Mucciconi mi ha detto Luigi che sono tutti pronti si sono allenati alla grande voi come state? Mentalmente credo bene perché quei cinque punti di vantaggio non dico che vi facciano stare tranquilli però insomma eh non sono pochi eh a questo punto della stagione. Noi siamo bene siamo allenati bene siamo pronti noi siamo pronti perché noi eh siamo una squadra che eh ma lo dico senza presunzione poi che mi conosce lo sa siamo una squadra abituata alla pressione siamo abbiamo dei giocatori che sono sicuramente abituati alla pressione sappiamo di dover andare lì e vincere la partita perché è quello che noi dobbiamo fare poi tra il dire il fare è chiaro che c'è il campo di mezzo ma noi andiamo lì per cercare di giocare la partita in un certo modo e cercare di eh vincere questa partita che per noi sarebbe fondamentale. Sappiamo di incontrare una una grossa squadra sappiamo che all'andata ci ha messo in grosse difficoltà perché soprattutto il primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà però sappiamo anche eh abbiamo dei giocatori che sanno vivere questi momenti e queste pressioni perché altrimenti eh non non avrebbero vinto non avrebbero fatto campionati di un certo livello quindi sappiamo questo sappiamo che dobbiamo fare bene dobbiamo vincere come Avezzano dobbiamo vincere il campionato dobbiamo quantomeno provare a farlo nel miglior modo possibile adesso ci troviamo lì e chiaramente non intendiamo eh tirarci indietro. Sarà una partita secondo te Luigi eh decisiva ovviamente entrambe cercheranno di portare a casa l'intera posta ma eh pensi ci sia ancora margine e in questo caso margine per almeno la terza e la quarta in classifica visto che insomma siamo tra virgolette solo alla numero ventidue come giornata. A margine margine c'è sempre perché chiaramente mancano tante partite quindi né se vinciamo né se perdiamo né se pareggiamo eh decisiva sappiamo di avere eh sappiamo che la 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 partita è importante sappiamo di dover far bene però non è decisiva né se vincere se perdono però eh gli altri possono rientrare perché ci sono eh dieci dodici tre dieci della torrese credo tredici dall'Aquila però eh le partite sono ancora tante quindi i punti in palio sono tanti e possono rientrare secondo me queste due squadre. Poi è chiaro che eh io mi auguro che la notte si riduca sempre meno perché chiaramente noi dobbiamo cercare di fare il nostro no? E il nostro è quello di vincere il campionato quindi cercare di portare questa squadra in Serie D per eh per la contentezza delle persone, dei tiposi ma soprattutto il presidente che veramente eh merita a questa vittoria di campionato del mister, dello staff, di tutti quanti abbiamo, stiamo lavorando veramente bene. Speriamo di continuare, speriamo di di fare bene perché questa piazza ha bisogno di la Serie D. Chiaro non è facile. Chiaro che Luigi scusami poi a a a proposito di piazza e anche di altro eh eh ti chiederò ti chiederò con forse anche con una domanda scomoda però però te lo dovrò chiedere tra qualche minuto perché arrivano degli spifferi, arrivano delle voci e io eh devo togliermi questa curiosità ma credo anche eh i diretti interessati che sono qui con noi stasera e anche ovviamente eh i i nostri amici eh telespettatori quindi tra qualche minuto ti chiederò un qualcosa di particolare eh Guglielmo visto che sei come hai detto tu una parte neutra eh in questo momento eh tu vedi una favorita non solo per domenica ma soprattutto per il eh finale di campionato? Ma sinceramente no perché eh sono due squadre che mi hanno impressionato entrambe e non credo che in questo momento cinque punti possano fare la differenza ovviamente però un più un più otto Guglielmo a cosa a cosa porterebbe? Oh infatti ho detto ovviamente ciò va va calibrato alla luce del risultato di domenica perché dovessero andare a più otto ovviamente eh una distanza diversa senza scontro diretto con una partita di meno quindi oggi è questo perché credo che la partita sarà molto equilibrata poi probabilmente sarà una partita che si deciderà per dettagli e alla fine questi dettagli potrebbero fare la differenza anche nel corso della della parte finale del campionato. Guglielmo ascoltami eh te lo chiedo e poi girerò la stessa osservazione anche a Sergio Lorenzo dei Dominicis la spensieratezza dei giovani del Giulianova potrebbe far continuare anche in caso di sconfitta questa difficoltosa rincorsa oppure potrebbe essere eh il lato negativo appunto l'inesperienza chiamiamola così dei tanti giovani eh potrebbe potrebbe far crollare alcune certezze eh non solo ovviamente tattiche ma anche e soprattutto mentali. No secondo me no mh qualora ci dovesse essere una flessione nella seconda parte del campionato io non la imputerei a questo ma la imputerei alla normalità di un rendimento che fino adesso è stato eccezionale per cui non lo vivrei in chiave negativa ma direi semplicemente che magari farà un cammino un po' più normale ma come lo potrà fare anche l'Avezzano un cammino un po' più normale per cui no anche perché poi lo leggo anche l'esperienza che ho vissuto nella partita contro i loro perché con noi forse un pochino si sono innervositi loro perché sono andati sotto improvvisamente nel primo tempo di due gol in un paio di minuti. Lì eh lì sicuramente un po' il nervosismo ha fatto da padrone poi però ho visto la partita di Cupello il cinque gennaio e ho visto che hanno fatto molto molto esperienza in fretta di quella partita per cui credo che sia una squadra che non soffrirà di questo ma ma anche in caso di risultato negativo sarà capace di andare avanti al netto delle difficoltà che troveranno tutti nelle ultime partite perché prima vedevo il tabellino dei risultati e avevo già la percezione di questo poi rivedendoli che se sei partite sono finite o 0 a 0 o 1 a 0 quindi adesso il cerchio si stringe ed è dura per tutti. Sì assolutamente assolutamente sì condivido quello che stai eh dicendo poi tra l'altro guarda ti faccio vedere oltre ai risultati di domenica anche quello che accadrà domani eh tu che partita che partita ti aspetti a Lanciano un po' calante no? Rispetto alle eh passate settimane due sconfitte eh per la panchina di eh Pasquilli però credo sia sia sempre un campo un campo ostico un campo eh difficile quello di Lanciano Cuglielmo. Beh assolutamente ma è è difficile eh la squadra avversaria è difficile il campo mi riallaccio a quello che dicevamo prima della gestione di queste partite comunque in eccellenza il campo di gioco fa la differenza ho visto il campo di Lanciano comunque in pessime condizioni e sicuramente questo non aiuta eh il Lanciano ma non aiuta nemmeno le squadre a a fare determinate partite per cui il Lanciano secondo me non è cioè è in fase calante ma anche qui rispetto a un rendimento del giorno d'andata che è stato eccezionale anche perché è una delle miglior difese e probabilmente paga qualcosa in attacco ma ripeto anche perché è difficile poi giocare magari su quel campo in maniera così propositiva e pulita e a volte gli episodi fanno diventare una partita che il Lanciano ha vinto una a zero tante volte nel giorno d'andata la fanno andare da zero a uno come gli sta succedendo domenica che magari improvvisamente ha perso una partita a vasto quando invece era vicino a vincerla qui quindi non credo assolutamente una squadra in difficoltà in disarmo sì assolutamente no eh credo una squadra che ha delle difficoltà perché ha dei valori e a volte non riesce a esprimerle in casa e ha qualche defezione forse da da una rosa che non è stata mai così profonda non è non è troppo educato parlare delle banchine degli altri degli allenatori degli altri però la la questione belle ha lasciato un po' di amaro in bocca eh non solo al diretto interessato Guglielmo ma credo anche eh alla piazza ma anche agli stessi giocatori che che forse fino alla fine non sono riusciti a capire la vera la vera motivazione ecco come ci rimane un allenatore dopo che accade una cosa eh del genere ovviamente il pensiero è è rivolto anche a Sergio che che si è trovato dalla parte opposta nel senso che è subentrato però ecco come come si reagisce quando eh si viene si viene eh cacciati da una panchina dopo aver fatto non dico un miracolo ma poco ci manca. Premesso premesso che Sergio a te la domanda. No non lo so. No vabbè ve la potete gestire guarda fate voi. Guarda te la lascio Guglielmo te la lascio volentieri. Eh una patata bollente una patata bollente. Vabbè ma tanto risponderò con la sincerità con la quale risponderà anche Sergio. Assolutamente. Non conosci le motivazioni per cui non ti puoi permettere di giudicare questa è la base. Ovviamente senza conoscere le motivazioni è un esonero apparentemente spiegabile ed allenatore ci rimani male perché io credo che col passare del tempo gli allenatori sono sempre più l'anello debole di questo sistema che 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 fa in fretta a giudicare a fare eh specie nel mondo di dettantistico invece allenatore è ancora più in difficoltà rispetto al mondo professionistico perché non fa solo l'allenatore fa altre mille cose eh e mentalmente è una cosa veramente locurante e difficile per cui mi dispiace mi è dispiaciuto di Del Gallo mi è dispiaciuto di Marco Pomante a a Pineto eh e anche la conoscenza personale fa sì che che comunque c'è amarezza quando accadono queste cose anche se poi la frase più brutta è dire che fanno parte del calcio perché poi ripeto l'allenatore è sempre più l'anello debole di questo di questo sistema prima di andare da Sergio per la risposta a questa mia insomma osservazione barra domanda saluto Plinio Olivotto giornalista di Info Media News che conosce a menadito tutte le vicende di Avezzano e allora mi fa piacere questo parallelo eh c'è stato il presidente Mucciconi c'è Luigi Ridolfi Plinio mister Lorè mister Bonati e il collega Enzo De Dominicis allora ecco mi piace questo eh questo eh confronto tra te ed Enzo perché tra un po' mi direte quelle che sono le sensazioni anche vostre che conoscete bene le due eh realtà eh Sergio prima di farti rispondere all'osservazione eh fatta anche da Guglielmo ti chiedo eh mi è arrivata voce di una di una di una un accordo insomma diciamo così tra tanti allenatori che vorrebbero far cambiare determinati regolamenti per eh per quello che riguarda appunto le 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 panchine una sorta di nuovo mercato anche per per gli allenatori perché ci sono delle situazioni in cui poi vieni esonerato e devi attendere mesi 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 e mesi a differenza dei calciatori per tornare sulla cresta eh dell'onda ecco mi fai anche mi dai anche una tua impressione su questo tipo di su questo tipo di di osservazione. Allora io premetto che sono non posso che eh essere d'accordo con eh Guglielmo relativamente al a quello che è la quella che è la posizione degli allenatori. Io dico una cosa eh la federazione faccio una piccola una piccola provocazione la federazione dovrebbe a mio avviso fare corsi non solo per gli allenatori ma per i dirigenti e questo perché perché i dirigenti si trovano a gestire tra virgolette del materiale umano che non è materiale ma sono uomini ok? Ciò che è successo a Lanciano eh io non ehm non ne sono a conoscenza di ciò che è successo ma eh ha lasciato tutti perplessi eh io almeno io parlo per me stesso quando mi trovo tra virgolette a lavorare con una società o eh ad accettare un incarico eh mi pongo nella condizione di 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 aspettarmi di tutto e e questo non perché io conosca il mio interlocutore il mio eh eh la squadra che mi ha eh chiamato perché purtroppo eh oramai si è generato un sistema che non riguarda solamente le espulsioni ma riguarda anche eh eh quelli che sono gli avvicendamenti ok? E voglio essere chiaro si assiste oggi ad una situazione che non è Sergio puoi dire eh scusami qui puoi dire eh tutto quello che pensi eh nel senso che io dico sempre tutto quello che penso è quello è quello che ti dico che c'è poca chiarezza una provocazione potrebbe potrebbe arrivare essere un assist certo come no potrebbe arrivare un'opportunità perché ovviamente voi siete siete del campo nel vero senso della parola a noi arrivano notizie però poi alla fine non conosciamo mai la verità perché cose belle secondo me non sono accadute nemmeno a Casalbordino dopo cinque allenamenti un altro esonero quindi ecco a tutto tondo eh microfoni e telecamere aperte perché noi siamo qui per raccogliere non solo la provocazione ma soprattutto un consiglio ecco chiamamolo così da parte di chi eh è sul campo come voi guarda Lorenzo ehm ciò a cui mi stavo riferendo è proprio il discorso dell'onestà intellettuale che che non riguarda la Lega ma riguarda noi allenatori ehm sono onesto e ti dico che oggi si assiste ad una eh situazione in cui eh tanti allenatori fanno cose che non devono fare pur di allenare eh e questo e questo veramente è questo mi lascia l'amaro in bocca ora una società può scegliere eh di esonerare eh in qualsiasi momento eh però io ecco in questi casi se non passa un determinato periodo farei in modo di rendere svincolato poi l'allenatore perché uno che ti ha fatto due settimane in una società perché deve rimanere vincolato là questo è un discorso che veramente non sta in piedi mi dispiace ma è un discorso ehm eh che va a solo contro la persona e perché potrebbe rifarsi tranquillamente un eh un'altra posizione ma l'organismo tutto Enzo senza stipendio ecco ma l'organismo che tutto senza stipendio vincolato ma senza essere pagato ascolta Plinio innanzitutto ti saluto e ci siamo visto e ci siamo visti pochi e buonasera a tutti scusate il ritardo è colpa mia anzi mi scuso con Plinio perché pensavo di avere eh inviato eh il collegamento giusto invece è colpa mia io me ne scuso con Plinio ma ovviamente guarda Plinio a lungo di dieci minuti la trasmissione in primis perché devo darti voce e e poi soprattutto perché questa eh questa discussione mi sta piacendo io non ci metto bocca rimpallatevi fra di voi perché credo che sia la migliore la la migliore conclusione diciamo così di un discorso interessante che riguarda che riguarda tutti voi ma anche noi che seguiamo il calcio vai Sergio allora eh stavo dicendo eh credo che eh allora rispondo a Plinio eh gli allenatori anche in queste categorie sono ehm dovrebbero in teoria stipulare un contrattino va bene che in genere non viene controllato da nessuno allora gli organi competenti credo che debbano fare un piccolo sforzo ed andare a controllare se l'allenatore ha stipulato un contratto con la società la società ci penserà due volte anzi tre prima di esonerare cinque persone va bene di mandarli a casa per un motivo che sia giusto o meno ok però io mi rifaccio sempre al gli organi di controllo gli organi di controllo dovrebbero controllare se c'è il contrattino previsto da quello che è il regolamento se non c'è non ti faccio tesserare non ti faccio allenare e è risolto il problema perché la società dilettantistica non caccia cinque allenatori va bene ci pensa bene prima di fare una scelta e soprattutto di fare una scelta che va contro l'uomo che non è allenatore questo è un mio è un mio pensiero che non è atto a giudicare la federazione o altre o altre persone che se il Casalbordino ha deciso così va bene così ci mancherebbe insomma però io quello che posso dire è questo se tutto partisse da quelli che sono gli organi di controllo probabilmente talune cose non avverrebbero veramente d'accordo scusa se intervengo ma io parlo per me con gli allenatori miei tutti sono tesserati il contratto in via di liga quindi per quello che riguarda quello che facciamo noi facciamo così e poi è chiaro che io non riesco a capire io come dirigente quando prendo un allenatore prendo un allenatore perché ci credo allora non è che posso cambiare allenatore perché arriva una scompitta però scusami Gigi però scusami Gigi Gigi scusami però qua torniamo al discorso che facevo io purtroppo in in troppe situazioni poi si trovano a fare cose diverse da quelle che si vorrebbero fare ok quindi gli allenatori si mettono anche in condizione in una condizione particolare per l'eccessiva diciamo l'eccessiva voglia di allenare va bene quindi subentrano poi situazioni che non sono più di scelta ma sono di obbligo e ci siamo capiti Sergio Sergio sei il numero uno io ho avuto come giocatore e sono passato 30 anni è sempre uguale Sergio è un grande perché dice la verità senza problemi ma quello che dice è vero però dipende sempre pochia che fa e questo non riguarda nessuno eh cioè nel senso non è non è riferito ai nomi che ha fatto con ieri io non conosco nessuno Sergio stiamo facendo un discorso un discorso in generale ovviamente e ci ha messo lo zampino come sempre Plinio Olivotto che ha scatenato non voglio dire una polemica però è giusto perché lui da da osservatore nato eh qual è eh ha rimarcato anche la parte economica perché se si lavora un compenso soprattutto eh esatto anche se poi come dice Sergio forse prima della questione economica c'è il rispetto verso una figura che non è esatto che 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 non è di secondo piano ma è ma è ma è l'uomo Plinio sì sì vai vai Lorenzo io volevo sottolineare questo allora eh eh Lucarelli l'attuale allenatore del Chieti è rimasto fermo un anno eh perché eh dopo eh aver lasciato il il Chieti eh non ha potuto firmare con un'altra squadra allora si dovrebbe partire sono i regolamenti sbagliati si dovrebbe partire dal principio che un allenatore di calcio è un lavoratore a tutti gli effetti se io lascio il mio lavoro eh da da meccanico o da muratore eh presso una ditta perché non posso andare a lavorare presso un'altra ditta io faccio allenatore con il Rocca Cannuccia domani o mi licenziano o me ne vado con debito preavviso perché non posso andare ad allenare il Rocca Bruna il Rocca Pepe capito nel calcio tutto questo non c'è è sbagliatissimo io ricordo Lucarelli è stato fermo un anno un anno perché eh una volta firmato con eh una squadra non ha potuto o voluto allenare perché poi lì dipende dal rapporto che c'è con con la dirigenza non ha potuto allenare più quella squadra è rimasto fermo un anno ma perché se io sono un lavoratore ho diritto di potermi scegliere un'altra attività perché non posso farlo allora tu società mi paghi per tutti e dodici mesi restanti io l'anno successivo possa torno a lavorare ma tutto questo nel calcio non c'è Sergio dammene atto di questo no perché se a te ti licenzia qualcuno tu adesso non puoi allenare un'altra squadra ma per quale motivo per quale motivo ma io ma io ti do indipendente ma per me per me il discorso primio a parte che ci conosciamo da tanti anni il discorso che fai è con me sfondi una porta aperta ok non siete io ti dico no non siamo tutelati e in molti casi non ci facciamo tutelare pur di fare ok perché è normale perché poi ascolta se vai da una società Lorenzo se vai da una società è morte tua vita mia purtroppo è quello no no se vai da una società se vai in una società e chiedi il contratto non ti manco siedi a parlare ok perché ci sono altre dinamiche va bene purtroppo succede questa è così è inutile che ci nascondiamo ma questo lo posso accettare però il fatto che io lascio quel posto di lavoro e non posso prendere un altro è sbagliato e beh secondo me è proprio contro i principi di tutti i lavoratori di tutte le categorie mi trovi pienamente d'accordo Enzo che ci dici tu Enzo dimmi dimmi qualcosa perché ovviamente ora si è si è attivata una una discussione anche sotto questo punto di vista è particolare no quasi caffiana però insomma questo è questo è il regolamento noi lo dobbiamo lo dobbiamo tra virgolette accettare e dobbiamo muoverci in questo in questo ambito però si vedono cose non belle Enzo il microfono per favore appena puoi abbiamo perso i primi secondi eccomi io io credo che quello che stanno dicendo gli intervenuti eh questa sera in trasmissione sia assolutamente giusto forse proporrei una eh un dibattito più allargato su queste dinamiche non dimentichiamoci che c'è la cosiddetta eh vicenda legge Bosman che ha trattato i giocatori come lavoratori questo non dobbiamo dimenticarcelo proprio no quindi è stata una legge rivoluzionaria quella lì che come dicevano gli intervenuti da quel momento i giocatori non sono stati più trattati come giocatori ma come lavoratori adesso eh venendo nella categoria io ho qui davanti a me due allenatori che giudico straordinari eh ma non perché hanno la passione perché loro e Bonati non hanno solo la passione perché sennò diremmo delle cazzate secondo me ma hanno anche la competenza hanno quel modo di fare propedeutico come diceva Bonati cioè ma un allenatore di eccellenza non è solo un allenatore è anche un padre anche un amico è anche un dirigente è anche colui che deve fare tante altre cose no allora tutelare questi personaggi in queste categorie personaggi significa tra virgolette per osannarli perché è giusto che sia così è necessario per cui noi ne stiamo parlando voi ne state parlando eh l'argomento mi entusiasma però io Lorenzo questo può essere un assist che ti trasmetto e magari aprire un dibattito non solo in tv ma più allargato anche anche una giornata di studio eh di dibattito di convegno per per secondo me dissertare su questo problema che come vedi è assolutamente giusto e sentito tutto qui no io credo io credo ci perdiamo altrimenti ci perdiamo veramente in chiacchiere e non ci perdiamo iniziamo a parlare e c'è un mondo qui si apre veramente un mondo si apre ognuno ha parlato e ha parlato benissimo per carità però adesso devono seguire i fatti e dobbiamo sentire a livello federativo che cosa ne pensano no a livello a livello normativo a livello regolamentare perché come diceva Lorè se qui chi deve controllare si mette a controllare questo non avviene anche perché poi escono fuori notizie che riguardano non solo queste vicende ma anche quelle dei settori giovanili dove c'è quel ragazzo che casomai viene fatto giocare per un motivo l'altro viene escluso perché quei motivi questo ma questo questo lo sappiamo anche qui anche qui vabbè lasciamo lasciamo questo 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 fa parte fa parte poi del decoro della dignità personale di ognuno di noi purtroppo c'è chi non ce l'ha e va bene così però come diceva come diceva Enzo le vie le vie d'uscita sono due o si rimane dentro cercando di cambiarlo il mondo oppure se non fa parte del nostro DNA del nostro carattere e soprattutto della nostra moralità se ne esce fuori perché altre vie d'uscita non non ne trovo credo io quindi benvenga l'appello di Enzo anzi eh poi casomai ne parleremo anche con gli organi competenti per cercare di 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 è lì che bisogna andare no è bisogna andare lì sono sono 40 anni che io sento che non bisogna rubare e insomma abbiamo un parlamento che scusate eh ma è vero è vero che cosa stiamo parlando però allora il primo passo stiamo parlando scusate purtroppo è questo poi se va a votare il 40 per cento degli aventi diritto al voto vuol dire che il 60 per cento non ci crede ma ma senza nulla togliere per carità le persone di di grande moralità e questa sera ripeto c'è un parterre dove veramente l'etica e la moralità qui qui ci sono persone che veramente possono andare avanti a testa alta e direla loro assolutamente a testa ma come tanti altri per carità io ne conosco tanti ma nel mondo dell'eccellenza dove si lavora si lavora si lavora e campionati di elettantistici lasciatemelo dire si lavora quindi tanto di cappello ad ogni allenatore ad ogni direttore sportivo al magazziniere qui un mondo dove si lavora lasciatemelo dire questa cosa qui quindi la norma è normare questi campionati veramente è necessario però bisogna farlo perché se no ne parliamo e non si va da nessuna parte in questo albero chiamato eccellenza lo possiamo dire tranquillamente ci sono tanti rami alcuni rami andrebbero tagliati alcuni rami invece andrebbero diciamo così annaffiati ancor di più curati ancor di più perché ci sono delle realtà importanti o concimati assolutamente ho vissuto ho vissuto personalmente vicende di squadre che si autotassano per mettere eh il diesel o la benzina su sui mezzi di trasporto per andare a giocare la partita c'è gente che ha pagato di tasca propria per ritirare le mute in lavanderia insomma c'è c'è anche autogestione e scusatemi se lo ripeto ancora una volta e e qui faccio riferimento a Guglielmo e al Delfino Curi Pescara c'è anche una parte sociale perché lui forse non vuole sentire più questa definizione però insomma ci sono delle società che oltre che a fare calcio fanno anche hanno un valore sociale hanno un valore sociale estremamente importante invece di stare su questi apparati dalla mattina alla sera non parlando di di calcio e di sociale ma parlando di videogame purtroppo anche di altre situazioni vanno al campo s'allenano e poi ovviamente c'è anche il ramo da tagliare il ramo secco che che non sta bene in questo in questo albero chiamato non solo eccellenza ma credo credo dilettantismo anche se poi le storpiature le vediamo anche anche nella massima serie e anche nei massimi campionati eh europei eh Plinio non so se vuoi aggiungere qualcosa sullo stato di forma dell'Avezzano e poi eh ad Enso chiedo lo stato di forma del Giulianova viene da questo pari zero a zero che secondo me non avrà eh di certo intaccato la voglia di di andare a prendersi domenica a tre punti importanti. Beh per quanto riguarda l'Avezzano penso che eh lo stato di 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 saluto lo stato di forma dovrebbe eh raccontarcelo più Gigi Ridolfi comunque posso dire che a lui cresce il naso quando faccio domande specifiche capito? Senti per quello che ne ne sappia io sono tutti a disposizione i tre eh diciamo infortunati della settimana scorsa che non hanno eh giocato contro l'Angolana sono tornati a disposizione si sono allenati quindi l'organico è eh a pieno titolo a disposizione dell'allenatore per cui c'è soltanto l'imbarazzo eh abbiamo abbiamo perso tra due squadre che meriterebbero tutte e due di salire assolutamente perché l'Avezzano per per quello che sta facendo e Giulianova perché è una squadra giovanissima sbarazzina che fin dalla prima partita ha eh proposto un gioco veramente eh brillante ha fatto divertire chi è andato allo stadio quindi meriterebbero tutti e due benissimo allora vado da Enzo invece per conoscere le ultime news sul Giulianova questo acquisto nuovo Romeo eh centrocampista se non erro classe duemila a due o duemila tre però insomma Mucciconi ci ha detto sarà un Fadini vestito a festa non solo domenica ma anche e soprattutto mercoledì perché vogliamo dare un segnale forte vogliamo dare il segnale di una società pronta a a riprendere quel cammino che ormai è fermo da troppi anni cioè quello del professionismo Enzo. Sì ma devo dire che Mucciconi ha fatto una cosa Mucciconi lui quando parlo di lui parlo di tutta la società ha fatto una cosa straordinaria lo lo ripeto lo ripeteremo perché la cosa più importante a Giuliano Giuliano ha già vinto il campionato perché ha riacceso questa società gli antichi eh entusiasmi questo è tutto quello che è stato fatto quindi il suo campionato l'ha vinto ha vinto il campionato della simpatia del gioco della sorpresa ha vinto il campionato del pubblico eh adesso può solo come diceva Bonati o andare incontro a un periodo di flessione oppure a un periodo di paura perché si trova lì e dice ma che stiamo a fare così in alto ma tutto ciò è l'arma a doppio taglio che ha un giovane un giovane può essere o contento e e quindi continuare a giocare in maniera sbarazzina e quindi questo potrebbe essere il lato positivo oppure magari spaventarsi vista la giovanità o magari avere poca esperienza ma alla fine si bilancerà tutto per quanto riguarda i singoli anche la barba recuperato per quanto riguarda l'importanza eh della gara ti faccio solo questo un aneddoto io so di eh tre squadre del campione una dunque allora una partita del campionato di promozione e altre due di campionati ancora minori che hanno chiesto di anticipare a sabato perché i giocatori di queste squadre e non sono i giocatori delle squadre minori di Giulianova ma della provincia di Teramo volevano andare ad assistere a questa partita quindi bravo Giulianova bravo Lavezzano e bravi coloro che amano questo sport che hanno riacceso questo entusiasmo Sergio eh facciamo facciamo un giochino io e te eh che risultato preferisci mi verrebbe da dire il pari per guadagnare su entrambe però ovviamente ovviamente questa risposta scontata eh e allora secondo te una previsione e soprattutto se ora eh e qui te lo chiedo in maniera seria se ora è il momento di pensare più a mercoledì anche se quella di domani domenica sarà una gara tosta io lo so che è una domanda stupida per gli allenatori perché bisogna lottare sempre in ogni match però eh si è spostato un po' l'obiettivo no 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 Lorenzo guarda non te lo dico per per retorica eh o per luogo comune ti dico che sulle nostre porte c'è scritto torrese ok sulle porte degli spogliatoi eh detto questo eh ti dico che assolutamente non si pensa a mercoledì eh come ho detto già in conferenza stampa la la formazione sarà la migliore eh domenica e la migliore mercoledì ma di mercoledì proprio non voglio parlare ehm relativamente all'Avezzano e al Giulianova voglio fare una piccola eh una piccola osservazione eh che già ho fatto anche qui con i dirigenti l'Avezzano non è primo a caso perché poi torniamo a bomba e torniamo al discorso che facevamo poc'anzi sulla conoscenza dell'eccellenza l'Avezzano eh nei nella sua rosa eh e questo per questo il mio amico Gigi è è maestro presenta dei giocatori che hanno è vero tante esperienze in altre categorie ma quasi tutti sono passati per l'eccellenza e ti dico così i vari Zanon ha fatto la serie A ma prima ha fatto l'eccellenza eh Diggi Rolamo Sassarini Donatangelo Bisegna Pendenza Dosantos tutta gente che quando va a giocare in campi ti faccio l'esempio quello che è capitato a noi a Cupello sa dove va ok e sanno regolare la loro la loro partita in base all'avversario ora ti dico che la mia prevision io non non mi piacciono le previsioni perché poi le partite sono aperte a tutto eh però ti dico che l'Avezzano andrà a fare una partita sapiente a Giulianova senza scomporsi dall'altra parte vedo il Giulianova eh come una squadra piena di entusiasmo piena di giovani molto molto bravi tra parentesi io ho allenato tutte e due i di Paolo eh sia Francesco che Federico quindi riconosco e e ci sarà praticamente uno scontro secondo me tra due forze che hanno operato in modo estremamente diverso l'una eh ponendo la giovane età e il talento eh a disposizione del eh di della società e l'altra con una estrema esperienza sotto questo punto di vista in in questo campionato insomma quindi direi che è una partita da tripla eh perché poi eh bisogna vedere come si mette eh sotto tutti e due i punti di vista però credo che l'Avezzano insomma in teoria in teoria guardandola da fuori abbia dalla sua non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista dell'esperienza insomma qualcosina in più che non guasta in questo campionato eh e Luigi Ridolfi ve lo posso confermare ma l'avete visto anche voi durante le parole le ultime soprattutto di Sergio Lorea ha tenuto le mani sul tavolo quindi a meno che non sia un tavolo in ferro in acciaio devo dire che 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 a questo punto non è non è scaramantico eh Guglielmo torno da te perché con Sergio non potessi scaramantico perché Sergio non è per me un allenatore ma un fratello lo siamo stati analizzato bene secondo te? Perfetto come sempre lui lui con me è una persona che ci conosciamo da giocava con me a Pescina abbiamo vinto campionato insieme quindi eh lui si può dire quindi ho estrema stima quindi quello che dice lui non posso essere scaramantico con qualcun altro forse sì con lui no Guglielmo no ma non io io non mi permetterei mai anzi voglio fare perdonatevi voglio fare eh voglio sottolineare ehm il comportamento eh che ha avuto l'Avezzano nei confronti di ospitalità nei confronti del Giulianova e il quello che avrà il Giulianova nei confronti dell'Avezzano queste sono cose che fanno bene veramente bene al calcio e al movimento ok dove non c'è stato eh non ci sono state scorrettezze e e e e la partita probabilmente di Avezzano e quella di di Giulianova saranno formative per i tanti bambini che vanno a vedere la partita e questo questo credo che sia il messaggio più importante a Guglielmo faccio la domanda non so se è scomoda se se è fastidiosa o se è particolare ti manca Guglielmo giocare un eh match da giramenti di testa ad alta classifica come quello che ci sarà domenica? Eh vabbè sarebbe bello farlo noi abbiamo giocato a Giulianova la prima partita loro in casa e mh e c'erano tantissime persone e ho passato tutto quanto il riscaldamento a dire alla squadra che che non ce la potevamo fare sotto insomma eh e quindi è stato molto molto bello molto molto bello eh eh momenti in cui lo tutto lo stadio applaudiva roba che si vede magari campionati professionistici per sostenere la squadra quindi e anche avezzano mh c'era della partecipazione anche se non è quella magari che merita la squadra eh per quello che sta facendo sicuramente sono belle partite da giocare ma adesso noi dobbiamo giocare le partite quelle per per rimanere in categoria per cui dobbiamo fare pochi polipindarici assolutamente e domani c'è una partita dura in quel di Lanciano l'abbiamo ricordato prima con quella con quella finestra proprio su questo match tra la formazione di Pasquilli e quella di eh eh Bonati eh Luigi ora mi devi rispondere perché insomma eh mi sono arrivate delle notizie particolari che che succede eh un po' di un po' di malumore non so se è solo personale ma che che abbraccia un po' tutta tutta la squadra mi puoi rispondere? Che sento? Non ho capito. Ah non lo so eh so che ti sei sfogato insomma mi hanno detto che 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 volevi no non è vero. No. No no abbiamo no 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 assolutamente sfogato non so che io come sempre eh cerco di dare il mio apporto soprattutto alla squadra per cercare perché io lo dico sinceramente voglio chiudere questo la prima voglio vincere la partita non ho problemi a dirlo perché abbiamo la forza abbiamo la squadra per poterlo fare sapendo di eh affrontare una squadra forte ma noi dobbiamo andare lì e vincere la partita perché abbiamo la forza di pappo quindi ma non è ti ripeto non voglio essere presuntoso perché non lo sono però una squadra sta bene quindi andremo lì per cercare di far bene non so se ti riferisci a questo penso di sì. Sì insomma a questo evidentemente si è allentato un po' la 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 pressione la 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 morsa ma insomma questo lo vedremo lo vedremo domani un punto di forza vostro io lo ripeto sempre eh quando eh ci sono ospiti eh bianco verdi dei lupi dell'Avezzano è stata quella e torno al discorso degli allenatori l'anno scorso in quel mini campionato quando tutto eh è andato perso è arrivata in diretta proprio davanti ai miei microfoni la conferma la conferma di torti è stato secondo me questo il punto di partenza ma questo questo scusa è quello che ti dicevo prima no? Quello che diceva Sergio anche prima se tu non hai l'allenatore scredi eh se era successo un'altra parte dove stanno cambiando allenatore torti doveva essere messa alla porta quando avevamo perso 4 a 0 in casa con i chiedi no? Invece noi abbiamo rafforzato la cosa anzi il mister eh diede lo dico adesso non so se diede addirittura dimissione e io si domava dove vai dove vai non non ti muovi assolutamente da qua. Quando il presidente quando il presidente Paris attraversò il campo no? Lasciando la tribuna un po' bravo bravo bravo. Ma il presidente Paris è è una persona che bisogna conoscerlo perché poi io ne sento tante no? E io ti dico che io è un anno a marzo che lavoro con lui proprio che mi ha fatto fare questo ruolo ringrazio ma lavoro veramente bene quindi non è assolutamente vero che lui si promette non è assolutamente certo è uno che ha fatto calcio undici anni è uno che capisce di calcio però io ti posso dire che a me personalmente ha fatto lavorare benissimo e ha fatto poi se un presidente scusami lui ma se un presidente che tra virgolette e anzi senza virgolette mette soldi e mette fondi se ogni tanto dice una parola non è la fine non è la fine del mondo bravo ma io prima di chiudere vi ricordo e qui torna lo scontro che ci sarà mercoledì che la nostra emittente ha profuso il massimo impegno per garantire a tutti gli appassionati dell'eccellenza non solo e non solo a Bruzzesi soprattutto per garantire per garantire la diretta streaming di questo meraviglioso evento che si giocherà al al Fadini quindi saremo impegnati con il massimo sforzo eh proprio mercoledì dalle credo prima qualche minuto prima delle quattordici e trenta anche per un piccolo grande pregara per raccontarvi appunto in diretta lo scontro finale tra l'Aquila e San Buceto per l'assegnazione eh della della Coppa della Coppa Italia e naturalmente domani come ogni domenica saremo impegnati eh sui campi più importanti per raccontarvi le vicende del campionato di eccellenza sarà la giornata numero eh ventidue io rifaccio un altro piccolo giro eh anche eh soprattutto per per i saluti oppure per qualche altra indicazione eh da dare ai vostri amici di 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 trasmissione allora riparto da Luigi Luigi Ridolfi per poi chiudere con eh Enzo De Dominicis vai Luigi un saluto a tutti un Plinio eh Plinio Sergio mister Bonati che ho avuto modo di conoscere personalmente ci siamo sentiti qualche volta anche per telefono una persona splendida anche lui e niente un saluto a tutti e niente grazie in bocca al lupo davvero perché sarà una partita non voglio dire decisiva però davvero davvero eh importante Sergio in bocca al lupo anche a te sperando ci sia questo questo risveglio no dopo 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 qualche parola eh detta eh domenica scorsa atta a eh risvegliare un po' di 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 animo rispetto a quello che si è visto a Cupello. Beh ce lo auguriamo tutti quanti innanzitutto ti ringrazio ringrazio. Grazie a te e grazie alla società soprattutto ecco che ci ha consentito di 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 farti partecipare a questa a questa trasmissione. Assolutamente sì ringrazio tutti eh saluto tutti gli amici presenti studio eh non posso escludere nessuno ehm e voglio dire eh solamente una cosa la cosa più importante eh voglio che si ricordi questo che il calcio è un gioco e ci deve essere eh in questo gioco prima di tutto divertimento e onestà intellettuale quando c'è questo eh c'è già tutto va bene sarebbe riduttivo parlare solo di eh quelli che sono i risultati che poi il risultato in sostanza è una è un aspetto effimero del calcio perché da una settimana all'altra sei bravo o sei scarso o addirittura nell'asso di tempo di tre giorni o quello che voglio dire è che il risultato è è un fattore eh che ha un livello di caducità elevatissimo quindi non mettiamo sempre il risultato come primo step ma mettiamo la prestazione mettiamo il lavoro che si fa durante la settimana sia a livello eh di campo di spogliatoio di società quindi come diceva Enzo prima il lavoro non è da fare solo ed esclusivamente sul campo ma c'è un lavoro complesso da fare e e e devo dire che eh eh mi avvicino veramente col cuore a tutti gli allenatori eh della categoria e di tutte le altre categorie un saluto e buona serata grazie grazie Sergio in bocca al lupo per domani per questo scontro al vertice eh con eh la a Torrese Guglielmo chiusura anche anche per te ovviamente in bocca al lupo anche eh a voi per il match di eh domani eh grazie per esserci stato come sempre e hai detto non sono parte in causa ma tu insomma eh ormai sei un allenatore storico navigato in questa categoria e ovviamente ti auguriamo palcoscenici migliori. Tanto ti ringrazio Lorenzo che sempre belle parole per me e soprattutto per la nostra società. Ne approfitto per 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 ringraziare in questi ultimi secondi il nostro presidente Quinto Paluzzi che eh sposa tutto quello che ha detto Sergio nell'ultimo suo intervento e nel modo di vivere la società eh non c'è mai abbastanza tempo per farlo perché è una persona che ormai sta eh con la quale sto contanti da da tanti anni e veramente porta avanti questi valori in maniera eccezionale e rimettendoci tanti soldi e tanto tempo quindi quest'anno ho avuto anche la fortuna di essere affiancato anche dirigente della Curi del settore giovanile e spero che possano portare avanti questa realtà per per tanto tempo perché in queste categorie poi ci sono tante squadre utili tra virgolette come la nostra eh in ultimo saluto tutti e faccio un grande bocca al lupo e ci vediamo presto sui campi eh nelle prossime giornate. Grazie grazie Guglielmo tra l'altro io in un in un messaggio natalizio eh in una trasmissione di Rete Otto inviai gli auguri direttamente ai presidenti e ai membri di tutte le società perché fanno degli sforzi eh eh enormi davvero non scelgono solamente i calciatori non vanno solamente davanti alle telecamere o davanti ai microfoni ma spesso e volentieri prendono eh scopa e straccio e scopettone per mettere in ordine gli spogliatori insomma fanno davvero tante cose accompagnano i ragazzi del settore giovanile delle scuole calcio quindi davvero un lavoro eh enorme quindi eh qualche mese fa l'augurio mio personale è stato proprio indirizzato a a a questi personaggi Enzo eh Plinio non scappate perché vi devo chiedere un eh pronostico sulla gara eh di domani per anzianità vado da Plinio va bene Plinio so che sei nonno quindi devo venire da te e fra poco lo diventerò per la per la quinta volta perché è un viaggio ah ecco per la quinta non è un'offesa ovviamente ma è solo sì no 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 assolutamente sono nato prima sono nato prima senti allora eh per quanto riguarda la partita poi ti rubo un minuto e ti ti spiegherò per quanto riguarda la partita ragionavo fra me e me per una legge della fisica si dice che due forze uguali e contrarie si annullano quindi eh la difesa più forte contro l'attacco più forte potrebbe finire in pareggio ma il Giuliano va in casa pareggiato una volta soltanto quindi eh è tutto da vedere una partita veramente da uno x due permettimi eh saluto tutti quanti ma voglio fare una domanda a mister Bonati e mi spiego allora è l'unico allenatore di tutta l'eccellenza che si ostina sottolineo si ostina a non comunicare ai cronisti in particolare che devono poi fare i servizi le sostituzioni della propria squadra mister perché questo accanimento scusami scusami questo in gergo abruzzese si chiama cazziata non so se la prendo volentieri perché perché sono identificato tante volte con la con la società per cui adesso neanche mi tiro indietro dovremmo acquistare la tabellina luminosa perché me l'aspettavo infatti dicevo ma ma Plinio non mi dice questa cosa questa volta che lui visto te l'aspettavi no? La verità che a volte cambiamo i cambi anche all'ultimo momento per cui questa cosa qua poi ci 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 vincolerebbe perché non a parte gli scherzi dai giro giro la segnalazione alla società che domani sera quando vede la trasmissione rimarrà contenta di questo ci dobbiamo credere speriamo Plinio se non erro la 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 lavagna luminosa fa parte fa parte del pacchetto regalo dopo la vittoria del eh del premio per fair play non so se 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 ancora così però Guglielmo almeno impegnatevi sotto l'aspetto della correttezza allora così vi arriva vi arriva bella bella davvero Plinio non me l'aspettavo eh ho scoperto anche eh ma vedi che Guglielmo se l'aspettava invece Enzo eh allora Plinio Plinio spinge per 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 un pari riferendosi alla alla fisica tu che dici? Ma partita la tripla comunque sono due squadre che l'ho detto prima possono raggiungere qualsiasi risultato leggere i valori tecnici non dovrebbe esserci partita però poi c'è tutto il resto che conosciamo e di cui abbiamo dibattuto che può dire altra cosa. Eh sicuramente anche anche la cornice di pubblico con la spinta di di tutto il resto ho detto tutto il resto naturalmente no? Sono pienamente sono pienamente d'accordo. Grazie a Sergio Lore, grazie a Luigi Ridolfi che si è scollegato poco fa, grazie a Guglielmo Bonati, grazie a Plinio Olivotto e mi scusa ancora per il ritardo nell'invio eh del link per il collegamento e grazie a Enzo De Dominicis che avrà buonasera l'onore e l'onere di raccontare il big match di domani ma sarà big match anche quello tra l'Aquila e eh Torrese. Gli ultimi ringraziamenti vanno a voi telespettatori che ci seguite sempre numerosissimi ogni eh settimana e ovviamente eh eh il mio appello è quello di seguirci non solo eh in eh questa serata ma anche anche nelle prossime sempre di sabato sera sempre su rete otto sport canale undici del digitale eh terrestre e ovviamente l'orario è sempre quello dalle ventidue circa eh in poi minuto più eh minuto meno. Domani sarà una giornata interessante vi ricordo anche l'appuntamento con sottoporta d'eccellenza dove eh vi mostreremo le immagini, le interviste, le emozioni di tutta la giornata d'eccellenza. Sarà la numero ventidue. Buonanotte a tutti e grazie di cuore ancora per averci seguito.